La Zakat è un culto annuale. È calcolato una volta su base dell'anno lunare che ha durata di 354 giorni. Si sottraggono i debiti e aggiungono i crediti alla quantità di denaro, merce, oro, argento posseduto per determinare e stabilire la ricchezza. Da qui il 2,5% di questa ricchezza viene appunto calcolata ed evoluta come Zakat.